Ciao ragazzi, dopo aver visto cos'è Google Analytics e come si installa correttamente, in questo video vedremo come funziona. Quindi entreremo nei dettagli e nelle singole voci di Analytics e quindi vedremo come sia possibile analizzare i dati più importanti. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo subito alla pratica. Ok, ottimo, perciò partiamo e andiamo ovviamente su Google e cerchiamo Google Analytics. Ok, ovviamente entriamo con Google Analytics, accediamo con il nostro account Google e dopo aver ovviamente configurato tutte le impostazioni base di partenza che se non avessi ancora fatto ti consiglio di vedere il mio video dedicato all'installazione di Analytics che trovi qua sopra e ovviamente quindi una volta aver effettuato tutto quello che è il settaggio iniziale e torniamo su Analytics. Perfetto, allora io in questo momento sto analizzando il mio blog che è edoardo rinaldi.com giusto perché almeno ho un mimo di traffico, ok? Ho praticamente un anno e mezzo che ho installato Google Analytics sul blog e banalmente, banalmente, grazie ad Analytics potremo andare a capire quali pagine sono più visitate di altre, quanto tempo il visitatore in media sta sul mio blog e anche appunto altre informazioni che ora vediamo. Perciò torniamo ad Analytics e partiamo dalla parte iniziale. Ovviamente la parte di home page iniziale è una parte di generale, no? dove ci viene detto addirittura il numero di persone attive in questo momento, ci viene detto il numero di utenti, sessioni, frequenza di rimbalzo in breve degli ultimi sette giorni, in questo caso volendo cliccando si può andare a cambiare il range, ma e ovviamente anche altri, diciamo, dati, no? Ad esempio il traffico, il sorgente, quindi capire se questi, se i visitatori sono arrivati a noi tramite YouTube, Udemy, Instagram, Facebook, piuttosto che tramite una ricerca organica, social network, ma vabbè, insomma, adesso entraremo nel dettaglio di questi particolari, l'area geografica, le pagine più viste. Quindi banalmente direi di entrare nella parte un pochino più interessante, che è pubblico, così da andare ad analizzare questi dati, ma un pochino più nel dettaglio. Andiamo in pubblico, dopodiché in panoramica, e a questo punto si caricherà una schermata introduttiva, dove potremo andare ad analizzare i dati principali del nostro sito o del nostro blog. Perfetto, allora, innanzitutto, quello che stiamo vedendo in questo momento è un periodo di tempo limitato, dal 26 novembre al 2 dicembre. Potremo cliccare e scegliere addirittura un giorno specifico, io potrei scegliere solo gli oggi banalmente, che è il 3 di dicembre, applicare, e io vedrò quello che è successo oggi, ok? Quindi da mezzanotte fino alle 23 banalmente, quello che sta succedendo in questo preciso momento. Ora, non è mai bello andare a vedere quello che succede oggi, a meno che abbiamo attiva qualche promozione, per la quale oggi noi ci aspettiamo di vedere un picco di visite, quindi vogliamo capire quante banalmente persone, tramite, non so, una sponsorizzata, una ads su Instagram o Facebook, stanno vedendo effettivamente oggi il nostro sito. Altrimenti, ecco, teniamo conto che i dati non sono ovviamente in tempo reale al secondo, quindi potrebbero esserci qualche, magari, ora di differenza. Il mio consiglio è quello, perlomeno, di vedere i dati del giorno precedente, come affidabili. Ecco, ovviamente andare a vedere il singolo giorno vuol dire che c'è un motivo ben preciso, quindi capire se effettivamente in quel giorno è successo qualcosa di interessante, altrimenti, in genere, si va a vedere comunque un'analisi più e più lunga, banalmente, in questo caso, sono gli inizi di dicembre, andrò a partire da novembre, dal primo, applichiamo, e vediamo cosa è successo. Allora, qui abbiamo un grafico, che ci fa vedere praticamente le visite giornaliere, ogni singolo giorno, e vedo, banalmente, che in questo periodo, qui e qui, c'è stato un picco di 42 utenti, e anche qui ancora 42, perfetto. Banalmente, poi qua è sceso a 11, qua a 4, ne è carato. Io so, per esattezza, che in queste date, avevo sponsorizzato dei post su Instagram, sponsorizzati, che mandavano al mio sito, a una pagina specifica del mio sito, che è una landing page dedicata al mio corso, al mio corso per creare siti internet e blog. Quindi, ovviamente, io mi aspetto che qua c'è un picco, e anche qui erano due date ben precise, un periodo comunque ben preciso, in cui le visite sono aumentate, e quindi, ovviamente, è un dato giustificato da quel motivo. Perfetto. Ovviamente, avremmo potuto vedere altri volumi, e a quel punto avremmo dovuto chiederci il perché, in quelle date, c'è stato un picco. Può essere che, banalmente, abbiamo fatto delle collaborazioni, piuttosto che una pubblicità particolare, che ha attirato a noi l'attenzione, più degli altri giorni. Ma comunque entriamo nei dettagli. La prima parte è quella relativa agli utenti, quindi, ovviamente, passando anche col mouse, piccola parentesi, abbiamo già un dato di quello che vogliono dire queste voci. Banalmente, gli utenti sono le persone che hanno avviato, almeno una sessione, e quindi hanno visitato il nostro sito, almeno una volta, nell'arco di questo tempo, quindi dall'1 di novembre ad oggi. Nuovi utenti sono le persone che, in questo mese, hanno visitato per la prima volta, primissima volta, il mio sito. Quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che la differenza, tra il 3.44 e il 3.27, sono quelle persone, che hanno visto il mio sito, ma avevano già visto in precedenza, nei mesi precedenti, il mio sito. Quindi, non li conta come nuovi, li conta come utenti, ma non li conta come nuovi, avendo già visto in precedenza il mio sito. Le sessioni sono il numero, ok, di sessioni che vengono fatte, cosa sono le sessioni? È il periodo di tempo, come ci viene detto, appunto, anche qua, nel quale l'utente visita il nostro sito, quindi, dal momento, che accede, al momento che poi esce. potrebbe essere che queste sessioni, appunto, ovviamente, come in questo caso, sono di più, perché tenete conto, che, tieni conto, che nuovi utenti, possono aver visto in questo mese, più sessioni, no, del mio sito, e a quel punto il numero aumenta. Ovviamente, se questi nuovi utenti, il mese prossimo, vedranno ancora il mio sito, e io andrò a selezionare un range, ancora del mese, questo qua, attuale, questi qua saranno, diciamo, utenti, non più nuovi, però, insomma, si fa questa divisione, tra utente nuovo, e utente che invece è già, persona che ha già visitato il nostro sito. Numero sessioni per utente, sono il numero medio, quindi in media, di tutti questi utenti, è stato fatto, 1,67 sessioni, va bene, comunque una media, visualizzazione di pagine, ovviamente, sono le pagine visualizzate, le pagine, attenzione, corrispondono, ovviamente, al fatto che una persona, è arrivata in home page, poi ha deciso di entrare nella parte, iniziare da zero, poi è andato appunto a scoprire tutto quello che c'era qui dentro di interessante, poi di che, non so, è uscito o è andato su un'altra pagina, ovviamente, io in questo momento ho fatto 1, 2, magari vado anche sul blog, 3 cambi di pagina, quindi, ho effettuato 3 visualizzazioni di pagina, insomma, è il numero totale che questi utenti, è il numero totale delle pagine, che hanno visto questi utenti, per farlo in breve. insomma, qua ci sono altri dati, la durata media, tra l'altro, della sessione, la frequenza di rimbalzo, la frequenza di rimbalzo, è importante, e, banalmente, questo dato va, praticamente, a indicare, in media, quante volte la persona è rimbalzata fuori dal nostro sito, quindi, banalmente, quando una persona accede al nostro sito, capisce che non è quello che stava cercando, torna indietro, a quel punto c'è un rimbalzo, che viene, appunto, indicato, indicato in questo, in questo dato. Per essere chiari, una frequenza di rimbalzo alta, non è, non è bello averla, nel senso che, più è alta questa frequenza, più indica che le persone, con percentuale maggiore, sono rimbalzate fuori, quindi, dovrebbe essere bassa, questa percentuale. Io, tra l'altro, sono più della metà in alto, quindi dovrò fare qualcosa, per riuscire ad abbassare questa frequenza di rimbalzo. Procediamo, possiamo capire in che lingua hanno visitato il mio sito, ora, attenzione, il mio sito è lingua italiana, ok, non c'è inglese, però, potrebbe essere che io, grazie a Instagram, sia riuscito a portare persone al mio sito, che sono straniere, ok, che a quel punto, parlano una lingua diversa dalla mia, e attenzione, non sa ovviamente Google, se quella persona parla una lingua diversa dalla mia, ma capisce se il suo browser, quindi il programma che usa per andare in internet, è configurato in una lingua diversa dall'italiano, in questo caso, queste persone, hanno effettuato l'accesso al mio blog, tramite un browser, impostato con questa lingua. Paese, paese, entriamo ancora più nel dettaglio, sono, è la nazionalità proprio delle persone, che hanno visitato il mio sito, quindi 52 United States, US, 52 US, Francia, 2 Svizzera, insomma, ci dà un altro dato ben preciso, e soprattutto, entrando poi in Italy, in questo caso anche in US o Francia, possiamo addirittura capire, da quale città, anche tramite questa mappa, le persone si sono collegate, è molto importante questa cosa, perché ci fa capire, l'interesse geografico, dei nostri visitatori, no? L'interesse geografico, e quindi ci permette di sapere, se in una città, piuttosto che in un'altra, c'è maggior interesse. Ora, questo dato, può essere stato, ovviamente, se non facciamo nessuna azione, di comunicazione, o di pubblicità, è ovviamente, molto meglio, perché riusciamo a capire, in genere, l'interesse da dove arriva, ok? Così, senza far nulla, quindi in base alla tendenza, che c'è, rivolta al nostro settore. Se ovviamente, come io in questo caso, ho fatto, in questo mese, delle azioni di advertising, quindi di pubblicità, nella zona della Lombardia, Milano in particolare, mi aspetto di trovare, il dato Milano alto, quindi questa è la conferma, che la mia campagna, su Milano, ha portato tante visite. Dopodiché, dopo di che, dopo di che, procediamo, ovviamente qui c'è il mondo, non ti posso spiegare ogni pezzettino, altrimenti, potremmo farci un corso, di una settimana, però, ti consiglio di andare banalmente, a vedere, tutti questi dati, perché sono molto interessanti, e molto semplici da capire, e da leggere. Quindi, ad esempio, io adesso sono andato in dati demografici, e abbiamo la panoramica, del sesso, ok, il 54% dei miei visitatori, sono maschi. Qui, invece, possiamo andare a vedere, l'età dei nostri visitatori, quindi, sapere che, appunto, la maggior parte, non il 33%, che è la media più alta, la percentuale più alta, degli visitatori, ha tra i 25 e i 34 anni, e, banalmente, anche gli interessi. Ora, salvo gli interessi, che in questo caso, sono un attimino più ampi, cioè, sono molto ampi, ovviamente Google, li capisce in base a cosa, li capisce in base a quella che è la tendenza, di queste persone, a, diciamo, visitare argomenti di questo tipo. E, ora, a parte questa parte qui, che è ovviamente un pochino generica, questa parte qui, di maschio, un pochino, di maschile, e fascia d'età soprattutto, corrisponde tantissimo, a quello che è, a quella che è la tendenza, relativa alla mia pagina Instagram, dove, tramite le statistiche di Instagram, vedo anche in quel caso, che l'età, diciamo, maggiore, è quella tra i 25 e i 34 anni. Quindi, questo dato è molto interessante, perché, anche questo mi fa capire, che il mio blog, ok, il mio sito, il mio blog, e la mia pagina Instagram, sono allineati, con lo stesso pubblico, o perlomeno, con la stessa fascia, d'età, e, anche e soprattutto, di sesso, vabbè, che poi comunque il sesso è abbastanza 50-50, comunque, in genere, prevale leggermente, il sesso maschile, anche, su Instagram. Vabbè, comunque, torniamo, torniamo a noi. Altra parte interessante, è, comportamento, oddio, comportamento, vediamo se va, tecnologia, forse, ok, tecnologia, molto bello, no, forse, vabbè, dispositivi mobile, comunque, vabbè, tramite tecnologia, giusto per fartelo vedere, abbiamo modo di capire, con quale browser viene visto il nostro sito, maggiormente, è assurdo, ma possiamo capire, se il nostro visto, il nostro sito è più visto, con Chrome, con Safari, Safari App, quindi App Mobile, piuttosto che altri browser, perché è importante anche questo, importante, è comunque utile, per capire, effettivamente, qual è la tendenza, degli utenti, se vediamo che ad esempio, Edge, Firefox, non sono così usate dal mio pubblico, ora, ovvio è che non posso avere un sito che non sia ottimizzato, anche per queste due browser, però comunque, se tu, se tu fossi uno sviluppatore, un web designer, come me, potresti, o meglio, sai già, che per diversi tipi di browser, alcune regole possono essere leggermente diverse, o comunque, browser diversi, interpretano spesso alcuni elementi del sito in maniera diversa, un caso estremo, ovviamente, il caso più lampante, è Explorer, Internet Explorer, va molto spesso a cambiare la visualizzazione di alcune parti, quindi, ovviamente, in questo caso, io non ho nemmeno nessuno che guarda con Explorer, anche perché, se non ero abbastanza deprecato, al suo posto, c'è Edge, però comunque, se per assurdo il mio pubblico maggiore guardasse il mio sito tramite Edge, io so che devo aprire il mio sito, in questo caso non con Chrome, ma con Edge, e andare ad ottimizzarlo ancora di più, perché la tendenza è rivolta, ovviamente, a quei browser, comunque, piccola parentesi, andiamo avanti, dispositivo mobile, anche qui è molto interessante, sempre in panoramica, vediamo direttamente tramite quale dispositivo, le persone hanno visto il nostro sito, ovviamente, 90% delle volte, al primo posto abbiamo il mobile, ok, siamo infatti, in un'epoca tecnologica, in cui le persone visitano e stanno tutto il giorno connesse, tramite il loro smartphone, a internet, quindi sono connesse a Facebook, a Instagram, e se in Facebook e Instagram ci sono soprattutto rimandi al nostro sito, la tendenza è anche ovviamente quella, perciò il sito dovrà essere ottimizzato, per essere visto, vediamo se riesco a farti vedere un'anteprima, per essere visto specialmente in dispositivi mobili, quindi ovviamente la tendenza, vediamo se parte, quindi questo cosa vuol dire, vuol dire che ovviamente, siccome nel mio caso, la maggior parte delle persone visitano il mio sito tramite mobile, dovrò ottimizzare il mio sito per essere maggiormente visitato, comunque intuitivo, tramite l'esperienza mobile, quindi andando a verticalizzare tutto quello che è la user experience, e andando appunto a fornire l'esperienza migliore al mio pubblico. Perfetto, un'altra parte super interessante è l'acquisizione, l'acquisizione cos'è? È praticamente la panoramico, che è ancora, di come le persone sono arrivate a noi, quindi andare a sapere sempre nel lazzo di tempo che abbiamo selezionato, quindi dall'1 al 2 dicembre, qua potremmo raggiare i mesi, in che modo sono atterrate sul mio sito, quindi la maggior parte in questo caso vedo ancora che arriva tramite social. C'è una parte diretta, quindi quella parte di persone che hanno visto, o meglio hanno digitato direttamente il www.edoardo rinaldi, e poi c'è una parte di organic search. Organic search cosa vuol dire? Vuol dire che se uno va in Google e cerca Edoardo Rinaldi, tra i risultati di ricerca uscirò anche io, e a quel punto quando io clicco tramite quel risultato di ricerca, finiscono nella ricerca organica. Se invece io andassi direttamente nella barra degli indirizzi e scrivessi www.edoardo rinaldi, a quel punto quella è una ricerca, o meglio, è un accesso diretto. Ovviamente possiamo andare sempre più a fondo e capire anche in questo caso da quale social network sono arrivate le persone. Nel mio caso, nella maggior parte di questo periodo, sono arrivate da Facebook, dopodiché dalle Instagram stories tramite lo swipe up e tramite Instagram invece inteso proprio come link in bio. In questo caso, vabbè, punta al mio corso, però generalmente qui ho il link del mio sito che quindi fa appunto attelare le persone all'interno del blog. Perfetto. Ultima parte, molto molto bella, è la parte di comportamento. Anche qui andiamo ancora in panoramica, in modo da vedere un po' tutto. E tramite questa voce, abbiamo un modo di vedere quali sono le pagine più visitate. È una parte super interessante. Partiamo ovviamente dalla parte, da questo slash, anonimo. Corrisponde a cosa? Corrisponde alla home page del mio sito. Quindi, www.eduardorinaldi.com Se riesco a tornare... Ok. Le persone atterreranno quindi sulla home page e a quel punto il dato verrà tracciato tramite questo slash. Quindi non c'è niente, perché ovviamente è esattamente il mio indirizzo. Weekly Tips è una pagina del mio sito, che vi faccio vedere, che è dedicata all'iscrizione di un servizio mio, dove vado settimanalmente a inviare tips, quindi piccoli consigli dedicati al marketing e alla crescita personale. Ovviamente, cioè, tra l'altro con un semplice click, uno si iscrive e niente, piccola marchetta. Ovviamente questa parte qui come è composta? È composta da eduardoreinaldi.com slash weekly tips. Quindi, qua verrà salvato come weekly tips. Ovviamente la parte prima non la mette, ma perché l'ha da sottointeso chi ovviamente arriva da questo dominio. E così via, tutte le varie pagine. In questo caso è super interessante, perché si orienta anche da questa parte alle pagine più viste. Quindi, se io come in questo caso ho sponsorizzato o ho promosso tramite la mia pagina Instagram questa pagina, tramite le stories, tramite il link dei post di Facebook, a quel punto io ho un dato certo. Quindi so con esattezza che 270 persone, o meglio, 270 visite di pagina sono state effettuate in questa data, in questo range di date. Ovviamente, se non facessi nessuna azione di sponsorizzazione o di promozione, potrei comunque capire qual è l'interesse generale che hanno le persone in merito agli argomenti del mio sito. Capendo così quale contenuto è più interessante oggi di altri, io a quel punto potrei scegliere di andare ancora di più a approfondire quell'argomento, perché evidentemente quell'argomento interessa maggiormente le persone, o meglio, il mio pubblico. Quindi tutto questo per dire che cosa? Per dire che Analytics è uno strumento super importante, super dettagliato e ci dà modo di capire qual è il reale interesse del pubblico rispetto al nostro sito internet, rispetto ai contenuti del nostro sito, riuscendo così quindi a capire se stiamo andando nella direzione giusta e aiutandoci inoltre a creare nuovi contenuti in linea con quelle che sono le aspettative e gli interessi del nostro pubblico. Bene, anche per oggi direi che è tutto, ti lascio andare a vedere tutte le voci rimanenti di Google Analytics, è ovviamente molto semplice, molto navigabile e tutto abbastanza intuitivo, quindi non mi resta che augurarti un buon divertimento. Grazie a tutti.